La pedofilia è una minaccia costante all'integrità dei bambini e dei ragazzi che oggi travalica il mondo reale e si diffonde anche online. Queste le parole della dirigente del compartimento Polizia Postale delle Comunicazioni per la Toscana Alessandra Bellardini, che nella giornata nazionale per la lotta alla pedofilia ribadisce l'impegno della polizia nella protezione delle piccole vittime. Quanto accaduto negli ultimi due anni per l'emergenza pandemica prosegue, ha accelerato i processi di avvicinamento tra bambini ed internet, ha intensificato il rapporto di reciproca attrazione che già esisteva tra adolescenza e servizi di rete sociale online ed ha influenzato le abitudini quotidiane di ognuno di noi, imponendo una relazione sempre più stretta con il mondo virtuale, mostrando però altrettanto velocemente il suo lato oscuro. Si riconferma infatti, secondo quanto fa sapere la polizia postale, un trend preoccupante per cui la pedofilia diventa un pericolo imminente anche nei bambini più piccoli, con incrementi per quanto riguarda la Toscana, pari al 40% nel 2021 rispetto all'anno precedente nel numero di bambini coinvolti in casi di pedopornografia ed addescamento online, mediante l'utilizzo di social network, app di gioco e messaggistica istantanea. Nel 2021 nella regione sono stati ben 288 i casi trattati dal compartimento polizia postale e delle comunicazioni di Firenze. A riprova dell'aggravamento della minaccia contro infanzia e adolescenza in rete cresce anche in Toscana il numero di soggetti indagati per i reati di pedopornografia ed addescamento denunciati all'autorità giudiziaria, pari a 95 nel 2021 rispetto ai 70 del 2020. Nel primo trimestre del 2022, tuttavia, la situazione sembra ulteriormente preoccupare, poiché cresce il numero degli arrestati rispetto al 2021 per quanto concerne la Toscana, già 10 arresti effettuati nel primo trimestre rispetto ai 13 arresti effettuati nel 2021.